Il senso di rirresponsabilità discende dal concetto di governabilità e in nome di questo concetto noi abbiamo aperto la strada a un governo dell'Argentese. Non sono bastati forse vent'anni di contraposizione forte, ma c'è stata anche l'ultima provocazione che in piena elezione del Presidente della Repubblica ha portato alla candidatura di Romano Provi. E' stata l'ennesima, se vuole, a pochi giorni da oggi provocazione della sinistra e che ha cercato di far passare una persona che non poteva essere condivisa da larga parte del Parlamento come noi anche in quell'occasione avevamo chiesto. Quindi il percorso è nato difficile, è stato bravo Enrico Letta, ha messo tutto il suo impegno che in 5 giorni, contrariamente a quando aveva fatto Bersani 60 giorni, inseguendo chimere e grilline che non potevano dare esido positivo, ha fatto bene Enrico Letta a cercare immediatamente un incontro di larghe intese su continuti che sono stati oggetti della sua relazione al Parlamento e questo ci fa ben sperare per il futuro. E' ovvio che la storia non si dimentica, è ovvio che la nostra identità, come ha ricordato la Presidente del Consiglio oggi in aula, rimane per quella che è, per molti versi, molto diversa l'una dall'altra, ma l'impegno di tutti nell'interesse del Paese è fare in modo che questo governo funzioni e faccia le cose che i cittadini italiani si aspettano.